Non ce l'ha fatta la donna data le fiamme ieri a Lucca nella zona dell'ex ospedale Campo di Marte. Vania Vannucchi, 46 anni, è morta questa mattina in ospedale dove era stata ricoverata in condizioni ormai disperate con ostioni sul 90% del corpo. Arrestato un ex collega, Pasquale Russo, indicato proprio dalla vittima con un filo di voce ai suoi primi soccorritori. L'uomo nega le accuse ma sembra che fra i due ci fosse stata una relazione sentimentale finita poi nel peggiore dei modi.